Luca Odeven ha appena lasciato il carcere di Terni, 48 ore prima dell'udienza inaugurale del processo di mafia capitale e ha ottenuto i domiciliari. Un'istanza depositata ieri dal suo avvocato, stamattina al parere favorevole della procura perché Odeven collabora da molto tempo con i magistrati e ritorna a casa dopo 11 mesi di prigione. L'ex capo della Polizia Provinciale di Roma, poi tra i responsabili del tavolo di coordinamento nazionale per l'immigrazione, è accusato di aver favorito i vertici della Coop la cascina nell'assegnazione degli appalti per il cara di Mineo e di aver brigato con Buzzi per trarre vantaggio dai centri di accoglienza per profughi e richiedenti asilo. Avrebbe forse potuto tentare un patteggiamento ma in questo filone sono scaduti i termini. Però può ancora cercare un accordo a Catania dove la procura indaga da mesi in gran segreto sempre sul centro di Mineo, inchiesta in cui è indagato per la stessa ipotesi di reato di Odeven, la turbativa d'asta, anche il sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Castiglione del nuovo centrodestra. L'ipotesi del patteggiamento tenta e non da oggi anche Salvatore Buzzi ma finora i magistrati hanno sempre respinto le sue istanze. Avendo il suo legale presentato un'altra richiesta entro 15 giorni dalla data di notifica del giudizio immediato, giovedì mattina in aula l'istanza diventerà ufficiale e la procura dirà ancora una volta no. Processo già finito invece ma con pene pesanti per quattro personaggi minori di mafia capitale che avevano chiesto il rito abbreviato. Emilio Gammuto collaboratore di Buzzi alla 29 giugno, gli imprenditori vicini a Carminati Raffaele Bracci e Fabio Gaudenzi e l'ex funzionaria del comune Emanuela Salvatori, un tempo responsabile dell'attuazione del piano nomadi di Castel Romano. Accusate a vario titolo di corruzione o usura hanno preso condanne fino a cinque anni e quattro mesi.